Ciao a tutti, sono Lorenzo Rossi e benvenuti nel mio canale. Sono un micologo e mi occupo di tecnologia e di fungo. Oggi parleremo, come prima lezione, dell'imenoforo, cioè la parte fertile del fungo. Quella parte adibita alla produzione di spore e quindi alla riproduzione. Andremo a vedere le sue forme, come sono fatti, i colori, che tipo di imenoforo è, lamelle, a tubuli e pori, vedremo le differenze. Insomma, faremo questa parte del fungo. Ho deciso di fare così, spezzettare il fungo, prima imenoforo, poi cappello, gambo, proprio per semplificare il modo di osservare i funghi. Perché se facciamo tutto insieme, rischiamo di perdere qualche dettaglio. Per l'occasione ho acquistato un champignon e un pleurotus e andremo a vedere da vicino. Sono due funghi con l'imenoforo abbastanza diverso, proprio per farvi capire la differenza. In questo periodo non ci sono funghi e li ho acquistati al supermercato. Va bene, comunque ci serve solo per vedere come è fatto questo imenoforo e le differenze che ci sono. Cominciamo subito. Grazie a tutti. Ok, questi sono i funghi che sono andato ad acquistare. Sono funghi che si trovano al supermercato. Conoscete benissimo questo qua. Agaricus visporus, poi questo lo conosciamo un po' meno magari, ma comunque pleurotus ostreatus e pleurotus citrinopileatus. Comunque perché ho messo questi funghi? funghi. Ho messo questi funghi perché sono funghi coltivati, quindi tutti e due funghi saprotrofi e hanno i caratteri distintivi. Questo è un fungo, un fungo eterogeneo, mentre questi sono funghi omogenei. Ecco, queste parole comunque sono un po' strane. Però per capire, per comprendere quello che sto dicendo, basta che vediamo comunque come si stacca. il gambo da dei funghi. Per capire se un fungo è omogeneo, vediamo che se proviamo a strappare questo si rompe completamente il fungo. Ok? Mentre se proviamo a staccare lo champignon, fa un croc secco, un colpo secco e si stacca completamente. Questo perché i funghi eterogenei hanno la carne del gambo diversa dalla carne del cappello. Le ife sono disposte in modo diverso. Però questa è solo un'introduzione, no? Quello che ci interessa in questa lezione è l'imenoforo. Ok, guardiamo un po'. Apriamo un po' l'imenoforo. Togliamo questo velo. I veli faremo un'altra lezione, eh? Mi spiegherò i veli. Ok, vediamo le colorazioni diverse dell'imenoforo, no? Questo è bianco, questo è più scuro. Questo avrà una sporata, quindi una produzione di spor di un certo colore, questo ce l'avrà di un altro colore. Quindi, anche con questi caratteri cromatici, riusciamo a differenziare i funghi. Ma non solo, no? Non solo la colorazione, ma anche la forma. Qua vediamo che comunque, essendo un fungo eterogeneo, si vede proprio anche dall'attaccatura delle lamelle. I funghi eterogenei, quelli che hanno la carne del cappello, diversa dalla carne del gambo, le lamelle sono sempre libere. Le lamelle sono sempre libere. Vedete che comunque non si connettono al gambo. Mentre qua, su questo pleurotus, abbiamo lamelle fortemente decorrenti sul gambo. Qua è tagliato. Ha lamelle fortemente decorrenti. Ok? Fungo omogeneo. Cominciamo a vedere due funghi, uno comunque con lamelle libere e uno con lamelle decorrenti. Tutto l'opposto, no? Dopo ci sono altre forme, ci sono lamelle uncinate o smarginate, ci sono lamelle distanti, ci sono lamelle decorrenti, subdecorrenti e via dicendo. Insomma, dopo vedremo uno schermino più preciso. E poi, una cosa che vi volevo far vedere, è che il fungo, per vedere l'altezza delle lamelle, come sono fatte, come il dorso delle lamelle, dopo vedremo tutte queste cose, queste parole, bisognerà aprirlo. E vedremo comunque, così proprio il profilo della lamella, no? Vediamo come è fatta, come è disposta, se ci sono lamellule, se è libera, se ha un dentino, come è qua sulla parte marginale e tutte queste cose. Vedremo anche su alcuni funghi, sono presenti anche sul dorso della lamella, quindi il dorso, la connessione che c'è tra la lamella e la carne del cappello, delle colorazioni specifiche che ci aiutano a determinare alcune specie di funghi. Quindi, il dorso è importante osservarlo, è importante anche il filo, il tagliente, quindi la parte terminale qua, e le facce, le facce delle lamelle. La faccia è questa e questa qua, sono le facce delle lamelle. Quindi altezza, colore, forma, connessione con il gambo, filo lamellare e via dicendo. Insomma, tutti quei questi caratteri ci aiutano comunque a capire come è fatta la lamella. L'imenoforo è importantissimo sui funghi, l'imenoforo è importantissimo perché ci dà un aiuto notevole, insomma, è proprio determinante direi io. Allora, quest'altro invece vediamo come è fatto, no? Perché comunque i funghi bisogna sempre tagliarli per vedere dell'interno, no? Se vogliamo fare una analisi specifica. Qua vediamo comunque che questa lamella è decorrente perché proprio decorre lungo tutto il gambo, quasi fino alla, qua non si vede che ha tagliato, quasi fino alla base del gambo, eh? Sui filo roto sanno questa caratteristica. Adesso vediamo anche questo, questo ormai lo rotto, aspetta, vediamo un attimo se ne troviamo un altro. Ok, qua si vede, comunque la lamella va giù, decorrente, fino a metà del gambo. Pensate, fino a metà del gambo. Adesso abbiamo visto questo che è un fungo a lamelle, però ci sono diversi tipi di emenoforo, eh? L'imenoforo a lamelle, l'imenoforo a tubuli e pori, ad aculei, liscio, a creste, e chi più ne ha più ne metta, ce ne sono parecchi e bisognerà un attimo comunque distinguerli, ma è semplice, non è che stiamo parlando di cose complesse. Se è per esempio un cantarellus, genere cantarellus, non avremo una vera e propria lamella, ma avremo una cresta. Sul cratarellus, con il rocopiodes, la trombetta dei morti, avremo un imenoforo liscio, id numere pandum, un imenoforo ad aculei. Quindi vedete che questi caratteri ci aiuteranno anche a distinguere il genere, più che la specie, già che facciamo una distinzione di genere, è una cosa importante. Adesso guardiamo un attimo insieme questo schema che ho fatto per voi e per farvi vedere. Iniziamo subito con i funghi a lamelle, quindi i funghi più comuni, diciamo quelli che sono proprio il simbolo del fungo, no? Le raffigurazioni si raffigurano sempre così, i funghi, no? Con le lamelle, e ecco qua, per esempio, una sezione. Noi se facciamo una sezione a un fungo a lamelle vedremo così, così, presso a poco così. Ok? Adesso andiamo a vedere come sono queste lamelle. Ecco qua, un imenoforo, un classico imenoforo a lamelle. E qua vediamo le differenze che ci sono, no? Tra una lamella e un'altra. La forma, l'inserzione al gambo. Iniziamo con le lamelle uncinate e smarginate, che parecchi mettono insieme, ma è bene separarli. La lamella uncinata, infatti, comunque ha un uncino, vedete questa attaccatura qua? Un uncino un po' più acuto, diciamo, una puntina un po' più acuta, anche qua, no? Si inserisce nel, quasi si inserisce nel gambo e poi dopo forma questo dentino dove si connette, appunto. La lamella smarginata, invece, ha sempre questo dentino, però con una forma, diciamo, un po' più geometrica. Le lamelle libere non toccano per niente il gambo. Le lamelle distanti non solo non toccano il gambo, ma sono anche distanti dal gambo. Le lamelle adnate si connettono al gambo per tutta la sua parte. Le lamelle ventricose hanno questa forma panciuta, diciamo, no? Ok, le lamelle decorrenti decorrono lungo il gambo. Le lamelle sinuose hanno questa forma del filo sinuoso, questa forma così particolare. Poi abbiamo un immenoforo in cui sono presenti lamellule, che sono queste piccole lamelline che non toccano mai il gambo. Ok, qua si vede meglio, meglio, ecco qua, la lamellula, la lamellula che non tocca mai il gambo, la faccia della lamella, che è questa qua, sia questa che quella della parte opposta, il dorso, che è la parte dove la lamella si connette al cappello, e il filo, che è la parte opposta del dorso, che è questo qua. Il filo è importante da memorizzare, eh? Vediamo qua una lamella, come è fatta. Qua sarà lo spessore, lo spazio che c'è tra una faccia e un'altra. Abbiamo poi l'altezza, o la larghezza, e la lunghezza, che è tra il gambo e il margine del cappello. Lamelle sottili, ovviamente la parola lo dice, una lamella sottile, che è lo spazio tra una faccia e un'altra, sarà migliore su una lamella sottile. Invece c'è una lamella spessa, comunque è maggiore, quindi vediamo proprio lo spessore della lamella. Poi ci sono le lamelle erade, lo spazio che intercorre tra una lamella e un'altra è maggiore, e invece nel caso delle lamelle fitte, comunque sarà minore. Vedete quanto sono fitte in questo lactarius? Sono molto fitte e sottili. Ah, e questa è una cosa anche importante, perché comunque ci sono lamelle che sono di facile separabilità, cioè vuol dire che noi con una pressione sull'immenoforo riusciamo a staccare le lamelle a pacchetto, si dice così. si separano dalla carne, del cappello, e parecchi funghi si riconoscono anche per questo, nel caso per esempio dell'elepista. Biforcate vuol dire che partono da una e poi si separano, hanno questa biforcazione, diciamo all'inizio. Filo eterocromo. Filo eterocromo è importante perché qualche fungo ha questa particolarità di avere il colore del filo o del tagliente della lamella diverso dalla faccia. È una particolarità che ci può aiutare in qualche circostanza. Una delle cose più importanti è la colorazione della sporata. Ci sono i funghi leucosporei, rodosporei, ocrosporei, iantinosporei e melanosporei. Leucosporei vanno le spore dal trasparente al bianco poi crema. Rodosporei rosa bruno, diciamo, ocra rosato, comunque una colorazione rosata. Ocrosporei dal marrone ocra fino al ruggine e al tabacco. Gli antinosporei vanno al viola, nerastro, porpora, comunque un color violaceo. Melanosporei ovviamente bruno, nerastro, nero. Iniziamo con l'ecosporei. Oh, qua è proprio un esempio lampante, no? Diciamo, l'ecosporei, lamelle bianche e sporata bianca. Però qua, qua c'è un po' da ridire, eh? Perché noi vediamo che comunque questo fungo ha l'imenoforo, le lamelle, le lamelle gialle, qualcuno conoscerà questo fungo, eh? Comunque, ha l'imenoforo giallo. E io vi dico che è l'ecosporeo. E voi mi dite, ma come mai? Perché ci sono funghi che hanno l'imenoforo di un altro colore rispetto alla sporata. Quindi l'imenoforo bianco, sì, è vero un indizio, però non bisogna soffermarci troppo sul colore delle lamelle. Ma, guarda, cerchiamo di captare quello che sono gli indizi della sporata. Vediamo che qua c'è una sorta di patina, qua, qua, la vediamo, biancastra, no? E evidentemente un fungo è cresciuto sopra quest'altro fungo e a maturazione ha rilasciato le spore che si sono poi andate a depositare sul cappello e hanno formato un'impronta sporale. La deposizione delle spore in massa di funghi si chiama impronta sporale. Eccola qua. La vediamo qua, la vediamo qua. Quindi questo, questo è un fungo leocosporeo, anche se comunque è l'imenoforo giallo. Rodosporei. Rodosporei, ecco, qua è un esempio proprio lampante di rodosporei. Se questo uguale l'immanoforo si vedeva poco, magari, noi la sporata la andremo a cercare sulle curve del fungo, no? Le curve opposte all'immanoforo. Infatti qua vediamo comunque l'impronta sporale rosa. Ocrosporei. Vediamo questo. È un marroncino chiaro di un fungo ocrosporeo. Poi vediamo un altro esempio, che è un fungo ocrosporeo con sporata ruggine, in questo caso. E in caso dei cortinarius andremo a cercare, per esempio, la sporata sulla cortina. Sulla lezione dei veli, ve lo dirò, sulla cortina le spore cadono e si depositano su questa sorta di velo che è attaccato sul gambo. Non parliamo dei veli, comunque l'andremo a cercare qua, sul gambo. gli antinosporei, gli agaricus, sono proprio loro, no? I capostipidi di questa sezione, diciamo, che hanno la sporata dal rosato, marroncino scuro fino al violaceo. melano sporei, sporata nera, avremo questo qua. Questo è un fungo molto comune che nasce, nasce, con le lamelle completamente bianche. Poi dopo, con la maturazione, iniziano dalla parte del margine del cappello a scurire fino a diventare completamente nere e liquescenti. Diventano così, completamente nere. Poi il fungo, questo si scioglia, questa particolarità, infatti si chiama il fungo dell'inchiostro, coprinus, comatus. Ok, parliamo di un altro imenoforo, perché non ci sono solo le lamelle, chi va a porcini lo sa. Ci sono funghi, appunto, come i boletus, che hanno una spugna sotto, no? Quella che noi chiamiamo spugna in realtà è composta da tubuli, quindi tubicini, e la parte terminale di questi tubicini sono presenti pori, ok? Ecco qua, ecco proprio la forma classica del tubulo e il poro, no? Questi sono questi tubicini che alla parte terminale è presente questa apertura che si chiama poro. Cosa osserviamo nei tubuli? La lunghezza, in questo tipo di imenoforo viene misurata tra la carne del cappello e l'apertura del poro, e il poro. Inserzione, come le lamelle, inserzione al gambo è importante, la separabilità come le lamelle e il colore. Vediamo un po'. Qui abbiamo meno roba, delle lamelle abbiamo libere e distanti, i pori liberi e distanti dal gambo, addenati o decorrenti, ok? Sono solo tre. Vediamo i pori. I pori, cosa osserviamo dei pori? Il diametro, quindi sono grandi, grandi e piccoli, forma, irregolari, irregolari, ok? Colore e viraggi, perché ci sono alcuni funghi che al tocco virano, questi viraggi sono importanti da osservare. Piccoli, ecco qua, questo è un esempio proprio di imenoforo con pori piccoli e anche leggermente irregolari alcuni, comunque pori piccoli, piccoli, piccoli. pori rotondi, vediamo che comunque si vede che sono pori rotondi, irregolari, che non hanno quella forma che abbiamo visto prima, sono tutti irregolari, labirintiformi, che proprio formano questa sorta di labirinto. ma non abbiamo solo lamelle e pori, i funghi, come sappiamo, ce ne sono tantissimi e ci sono anche parecchi imenofori con parecchie forme particolari. Veniamo qua, comunque, questo è un imenoforo composto da aculei, detti idni, questi aculei possono essere anche loro adnati o decorrenti, ok? Qui vediamo la particolarità che sono solo due adnati, adnati, come vedevamo prima, e decorrenti, ok? Ecco qua, l'esempio di un imenoforo ad aculei adnati, vedete che non c'è una vera e propria decorrenza, a parte queste piccole screscenze, ma comunque non c'è una decorrenza dell'imenoforo, no? Di questi idni. E questo è un fungo che si riconosce anche per quello, non ve lo dico. Andiamo avanti, vediamo un imenoforo a creste, un imenoforo a creste. Le creste sono una sorta di vene, ok? Qui osserviamo, non osserviamo proprio la forma, la decorrenza, perché sono, diciamo, quasi tutti decorrenti, abbastanza decorrenti, quindi non le osserviamo queste cose, ma ci soffermiamo magari sul colore, sull'habitat e anche la forma, diciamo, il fungo. Eccolo qua. Questo è un imenoforo a creste, vedete? Che comunque sembrano proprio bene, con tutte queste attaccature tra una cresta e un'altra che si chiamano anastomosi. Questo qua è un fungo che vedete che è proprio semplice, semplice, non c'è niente di particolare, perché in effetti non c'è niente di particolare, perché questo è un imenoforo liscio, un imenoforo liscio che non ha decorazioni particolari, e viene definito il imenoforo liscio. Ecco qua, il capostipide di questi funghi è proprio Craterellus connocopiodes, la trombetta dei morti. Vedete che comunque non ci sono forme particolari in questi imenoforo, è il imenoforo liscio, a parte qualche, se vogliamo proprio qualche piccola crestina, insomma, il imenoforo liscio, Craterellus connocopiodes esempio, perfetto. Ok, prima di terminare però, vorrei andare indietro per dirvi una cosa che non vi ho detto. Per dirvi dove sono posizionate queste spore, no? Perché voi mi dite, cioè io vi dico tutte le forme e tutto quanto, e voi vi domandate ma sì, ma queste spore dove sono? Sono qua in fondo, sono qua su il filo? Eh, le spore generalmente sono sulle facce delle lamelle, qua, sulla faccia della lamella, ok? E ci sono spore cestididi che sono tutte quelle strutture, quelle cellule microscopiche adibite alla riproduzione, per esempio, nel caso dei basidi, per esempio, i basidi sono queste cellule che nel caso di un fungo a lamelle sono posizionate sulla faccia. In un caso di un fungo, andiamo avanti, di un fungo con i monoforo a tubuli e pori sono presenti qua, diciamo, sulla parete interna del tubulo e giunti a maturazione vengono rilasciati. Bene, anche per oggi è tutto, grazie di avermi seguito. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale e mettete clic sulla campanella così sarete sempre aggiornati sui miei video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!